Ciao a tutti, sono Zoosparkle e ci vediamo in un nuovo unboxing che mi è costato decisamente meno della scorsa volta perché con un solo euro e quaranta, sapete ce l'ho fatto? Ho comprato questo, animali nel mondo, non dal mondo, è nel mondo Vedete, c'è una mucca, una giraffa, un coccodrillo, un'orca, un dinosauro e... Boh, questo non lo so veramente cos'è Sono degli animalini di plastica che sono nel mio formato preferito, che sarebbe appunto quello piccolino, no? Quello lì che piace tanto a me e che chi è venuto al Vale Center il 24 ottobre l'ha anche visto, no? Che cosa ci ho fatto a questi animalini Allora, andiamo a procedere con l'unboxing Via Fischiamo il primo animaletto Allora Bene Penso, no? Senza un bel dubbio che si tratti di un elefante Ma la domanda è Si tratta di un elefante indiano o africano? Allora, vi dico subito un elefante africano questo Perché ha le orecchie grandi Infatti l'indiano ha delle orecchie più piccine Ci sono ovviamente delle differenze anche sulla forma del cranio e sulla punta della proboscide Però, cioè, non si apprezzano appunto in quel modellino del genere Le zane degli elefanti sono fatte, come sapete, di avorio E che cosa sono? Sono in sostanza degli incisivi che crescono appunto più del normale Gli elefanti hanno le zanne tutti Però sappiamo che gli elefanti africani hanno le zanne più sviluppate rispetto agli indiani E comunque i maschi le hanno più sviluppate rispetto alle femmine Quindi, sulla base della lunghezza delle zanne Si potrebbe dire Vedete, sono corte E questo elefante africano è una femmina oppure un maschio Purtroppo è assessuato, quindi non si può vedere Resterà un dilemma aperto Comunque un maschio, scusate Un maschio giovane, perché sono ancora da crescere Quindi è una femmina Con le zanne più corte, li possono diventare anche più lunghe di così Oppure è un maschio giovane appunto E via, ne apriamo un altro Allora Abbiamo pescato Questo ormai lo sappiamo tutti Che cos'è? Una bella giraffina Col suo lungo collo Che pensate, pur essendo così lungo Contiene solo sette vertebre Insomma, solo le sono allungate Caratteristiche della giraffa sono queste Vedete? Queste sono piccole Però sono i cornini I corni della giraffa Che cosa sono? Sono corna, sono palchi E nessuna delle due Sono ossiconi Che cosa sono gli ossiconi? Gli ossiconi in sostanza sono Delle protuberanze fatte di cartilagine ossificata Che essendo in fuori Hanno anche una Un'importanza per la termoregolazione E sono tra l'altro Presenti solo nelle giraffe Negli ocapi Che sono loro parenti E nei loro parenti estinti Insomma I maschi Di solito li hanno più grandi E più lunghi delle femmine Perché li utilizzano per i combattimenti Proprio per questo motivo Gli ossiconi dei maschi Delle giraffe Sono spesso glabri Cioè non hanno i peli Perché appunto Sfregandosi Li perdono Mentre invece Le giraffe femmine E gli esemplari giovani Le hanno ricoperti I ciuffi di pelo E niente Basta Curiosità finite Per oggi Sono le giraffe Prossimo animale Prossimo animale Ah guardate un po' Oh dove scappa Allora dovrebbe essere un leopardo Insomma una struttura molto leggera Sì non mi sembra Sì non mi sembra un guepardo Quindi direi sì È un leopardo Perché il leopardo È una struttura più leggera Rispetto al jaguaro Il leopardo è un felino Molto adattabile Pensate Vive sia in Africa Sia in Asia E copre un sacco di ambienti diversi Dalla savana Alla foresta pluviale E tutto quel che c'è nel mezzo Insomma Pensate Hanno dei canini Molto molto Grossi e lunghi In proporzione appunto A dimensioni del cranio E un leopardo Che da adulto pesa Pensate Circa 65 kg Può abbattere delle prede Che sono 10 volte più grandi Che lui Quindi sono animali abbastanza tenaci Insomma Deve mangiare 3 kg di carne Minimo al giorno Per Diciamo Mantenersi Al top della forma Poi magari dei giorni Non gli capita Però insomma Per mantenersi al top della forma Deve mangiare 3 kg di carne al giorno E pensate Che deve anche Cioè Deve anche La sua straordinaria Adattabilità Al fatto che Mangia un po' di tutto Mangia appunto Dai bufali E dalle prede molto grandi Che può nascondere Anche sugli alberi Se ce la fa Per mangiare In un secondo momento Se è già finito E mangia addirittura Anche insomma Piccoli insetti Perché Ha un range di piede Di prede Di prede Di prede molto ampio E di Adattabilità Insomma Ecco va Il leopardo Poi Ma si vai Facciamo il leone Ce l'ho da fuori Questo appunto È come vi ho appena detto Un leone È un maschio Perché ha la criniera Ed è anche abbastanza folta Quindi si presume Sia un maschio Non proprio giovane Giovane E anche abbastanza in salute Visto appunto Il colore scuro I leoni sono particolari Perché sono Diciamo Tra i grandi felini Sono gli unici Che sono sociali Diciamo Il fulcro Della socialità Del leone Sono i branchi di femmine E sono quelli Che rimangono stabili I maschi Appunto Da vaganti Quando prendono Diciamo Il controllo Appunto Di un branco di femmine E Diventano Quindi loro I leoni Capi Branco Possano essere uno Possano essere due Possano essere anche qualcuno di più A volte Imparentati tra di loro A volte no E in sostanza I leoni Poi I maschi Possano essere scacciati Da altri maschi Di conseguenza diventano appunto Leoni Che sono solitari E che cercano altri territori Quindi diciamo Che l'unità sociale Del branco del leone È Il gruppo di femmine Infatti Dei cuccioli Le femmine rimangono nel gruppo I maschi Ad un certo punto Vengono accacciati Insomma Perché poi Se no vogliono Loro il comando E il maschio grande Non glielo vuole dare E poi anche per evitare L'imbreeding Cioè L'accoppiamento Fra animali imparentati Che Fa sì che la specie Si indebolisca Poi Questo è un rinoceronte Questo l'ho guardato bene E Vi stupirà Sapere qualcosa Di questo rinoceronte Allora Innanzitutto Che rinoceronte è? Esistono Cinque specie di rinoceronte In India Quello indiano Quello di Java E quello di Somatra E in Africa Quello nero E quello bianco Ora Guardando la pelle Come è fatta Dietro Con queste grinze Delle zampe Posteriori Direi che Possiamo optare Per un rinoceronte Che vive in India Un'altra cosa Ganza È che l'unico rinoceronte Che vive in India E che Ha due corni Sapete qual è? È quello di Somatra Quindi questo Si può dire Che è un rinoceronte Di Somatra Insomma È molto Molto Minacciato Alla frammentazione Dell'habitat Alla deforestazione Pensate Che Il suo corno E qui è fatto bene In effetti Il suo corno Frontale Può raggiungere 25 cm Il posteriore Invece rimane Come un bozzo Una sorta di Moncone E quindi In questo senso Si può Pensare Che questo sia effettivamente Un rinoceronte Di Somata Anche se La forma della testa Non mi convince tantissimo Ma vabbè Sono anche tra l'altro Molto vocali Rispetto ad altri rinoceronti E fanno Molto uso Dei vocalizzi Per comunicare Tra di loro Poi Andiamo con gli ultimi due Che sono La tigre Vedete qua Ecco qua La tigre Dunque La tigre Sto felino Molto Bello Molto affascinante Che fa Del suo Manto mimetico Insomma Un'arma Per arrivare Di soppiatto E tendere a guati Alle prede Pensate Rugge Sono una tigre Si sente A due chilometri Di distanza Che cosa hanno Di diverso Dai nostri gatti Beh Molte cose Che cosa hanno Di uguale Che sanno Miagolare Se vogliono Insomma I nostri gatti Non sanno ruggire Ma le tigre Sanno miagolare Quindi sono tra L'ampio repertorio Di vocalizze Che i felini Possono fare C'è anche Il miagolio Per quanto riguarda Le tigri Sapete che le tigri Possono fare le fusa Eh Lo possono fare Però C'è una differenza sostanziale Con i nostri gatti Cioè I gatti nostri Le possono fare Sia ispirando Che espirando Mentre le tigri Le possono fare Solo quando espirano Ecco qua La nostra tigre E poi abbiamo L'ultimo Dulcis In fondo L'ippopotamo Che non è tanto Dulcis Come animale Perché sebbene Sia passato Anche grazie a Fantasia di Disney E comunque Al suo aspetto Un po' paciocco Come un animale Molto molto Simpatico Simpatico Carino Ciccioso Eccetera L'ippopotamo È un animale Veramente una carogna Insomma Perché Diciamo Uno degli animali Che uccide Più persone In Africa All'anno Al pari Praticamente Dei coccodrilli Nonché appunto Il mammifero Che ne uccide Più di più In assoluto Al secondo posto C'è il bufalo Afro Anche Insomma Un soggettone Non indifferente Anche L'ippopotami Hanno il cosiddetto Avorio Ne è apprezzato Ma è quello Degli elefanti Ma è simile E lo hanno Nelle zanne Le zanne Delle lippopotami I veri e propri Sono I canini Inferiori E possono sporgere Dalla gengiva Anche per 30 cm Sono Delle armi Allucinante Pensavo Un ippopotamo Poi può Pesare due tonnellate Aprire La bocca Con un angolo Di 150 gradi Che non è proprio niente E in acqua Sono veloci Ma sulla terra Insomma Per dei brevi scatti Raggiungano Anche secondo qualcuno 40 km orari Quindi insomma Sono degli animali Da cui tenersi Alla larga Assolutamente Comunque Detto questo Abbiamo finito Questo breve Non so quanto Unboxing Abbiamo visto Appunto Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette Giusto? Sì Sette animaletti Di plastica Che ci hanno Ognuno Insegnato qualcosa Su di sé Sono di solito Sempre animali Della savana Sarà perché Quelli Insomma Sono più Visti nei documentari Fanno più successo A parte qui Insomma Sono sempre Spesso si trovano Appunto Questi animaletti Qua Perché sono Molto Conosciuti Quindi devono essere Apprezzati dai bambini Eccetera eccetera E niente Come sempre Dai giocattoli Si può imparare qualcosa Come vi dico sempre E questo Insomma Spero vi sia piaciuto il video Spero che vi abbia Detto qualche curiosità Per Quanto riguarda Questi set animali Ci vediamo Al prossimo unboxing Da Zosparco È tutto Ciao Ciao